Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo una fantastica intervista doppia a Smilo e Mamb! Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi! Cominciamo con la prima domanda. Allora, come vi chiamate? Io sono Smilo. Io invece sono Mamb. Nome della vostra specie? Smilodonte. Mammut. Cosa significa il nome della vostra specie? Smilodonte deriva dal greco e significa denti a sciabola. Mammut non lo so da dove deriva e non so che cosa significa. Qual è stato il vostro video preferito del vostro canale? Fammi ci pensare. Oh! A me è piaciuto un sacco Smilo e Mamb 1. A me... Le storie horror di Smilo e Mamb. Canale YouTube preferito a parte il vostro? Ehm... Il dato positivo. Ehm... Beve Amici Fritz. E Dinoland. Animale preferito? Beh... Tirannosauro ovviamente. Ehm... Farfalla. Colore preferito? Rosso. Blu. Cibo preferito? Carne. Di plati berodonte. Ehm... Piante. Materia preferita? Scienze. Non lo so. Personaggio preferito del canale a parte il vostro... A parte voi? Ehm... Scorpio. Ehm... Non lo so. Film preferito? Harry Potter. L'Era glaciale. Festività preferita? Halloween. Natale. Nome del tuo migliore amico? Mamb. Smilo. Il vostro primo video che non è una puntata della serie? Eh... Il primo unboxing. Sì, sì. Il primo unboxing. Super eroe preferito? Batman. Spider-Man. Videogioco preferito? Minecraft. Stumbleguys. Avete una fidanzata? Sì. No. Cosa vi ha ispirato a diventare degli youtubers? Allora, abbiamo visto su YouTube due tirannosauri che si chiamavano Alex e Vastatore. Facevano dei video bellissimi dove raccontavano le loro avventure. E quindi noi abbiamo deciso di fare la stessa cosa però con le nostre avventure. Il vostro peggior nemico? Fakor. Fakor. Tre aggettivi per definirvi. Eh... Carino. Mmm... Coccoloso. E gentile. Dai. Io... Feroce. Mmm... Presuntuoso. E... Gentilino. Chi è il più grande? Beh... Io sono nato un mese prima... Un mese dopo di Smilo. Quindi... Sarei io il più grande. E il più alto? Beh... Il più alto è il Mamb. Ovvio. E il più grasso? Beh, ovviamente è il Mamb. Ehi, io non sono grasso. E' tutto questo pelo che mi fa sembrare rotondo. Meglio l'acqua liscia o l'acqua grassata? L'acqua grassata, è ovvio. Ma l'acqua liscia, è ovvio. Quando eravate piccoli, che lavoro volevate fare da grandi? Beh... Io, in realtà, ho sempre voluto fare il detective. Io pensavo di fare lo youtuber, però poi... Ho deciso di rinunciare. Ma poi, quando io e Smilo abbiamo sconfitto Pacor, ho deciso di... Ecco... Creare un canale youtube con lui. Se non foste gli animali che siete, che specie di animali vorreste essere? Allora, io... Un tirannosauro, è ovvio. Io... Vorrei essere un animale che... Che vive tanto. Una testugge, tipo. Quanto vive la vostra specie? Eh, in realtà io non lo so quanto vivono gli smirgonti nella pre-storia. Però, dato che anche gli scienziati umani che ci hanno riportato in vita non lo sapevano, hanno deciso di farmi vivere quanto loro. Io, invece... Ehm... Vabbè, i mammut e la longevità è rimasta invariata. Sessant'anni circa. La caratteristica più evidente della vostra razza? I due denti. Infatti, smirodon significa denti a sciavola. Io direi che i mammut sombigliano ad un elefante, però hanno la pelliccia e le orecchie piccole, a differenza dei nostri cugini africani. E gli indiani. Questa è la domanda più importante. Quando avete conosciuto i vostri amici? Allora, beh, mio papà la conosco da quando sono nato. La foca la conosco da un anno dopo essere nato. Pelliccio lo conosciamo da quando siamo stati catturati dagli umani per la prima volta. Scorpio l'abbiamo conosciuto grazie alla festa di Pasqua di mio fratello, la foca. Poi abbiamo conosciuto Regina durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Poi il velocinese era venuto qua sull'isola preistorica perché si era trasferito. Idem per sputacchio. Piumatus prima era cattivo, però poi l'abbiamo fatto diventare buono. Arctonio faceva parte della sua squadra di eroi. E poi... basta. Bene, possiamo chiudere quest'intervista. Fate degli applausi. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto. E seguiteci anche su Instagram e su WhatsApp. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.